La mia proprietà non ha detto che c'è un altro progetto o bisogna vedere i progetti quali sono, come abbiamo lavorato in questi anni con un monte in gaggi da 20 milioni di euro si lavorerà con un monte in gaggi da 20 milioni di euro, cioè il discorso è chiaro, non è che ci saranno programmi nuovi o di ridimensionamento, io ho 20 milioni di euro di monte in gaggi, il mio allenatore sa che c'è una società che lavora su 20 milioni di monte in gaggi e non è che la mia società dirà no lo avrai da 30, ma questo ve lo garantisco non mi dirà ce l'avrai da 15, quindi quali programmi bisogna sedersi a valutare? Io come direttore sportivo non è che la mia società mi deve dire, la mia società come l'ha detto a Prandelli sa già quello che dobbiamo andare a fare, allora tu mi dici Prandelli deve rimanere, certo perché c'è il contatto con noi perché non deve rimanere, la mia società ha detto che vuole stare a Firenze, io ho detto che voglio stare a Firenze, il mio allenatore ha detto che vuole stare a Firenze, qual è il problema? Se ci sono problemi non da parte della società, ci sono problemi da parte degli altri e voi sapete, io questo non sto capendo, se no è tutto chiaro per me.